benvenuti su veie games iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita ciao a tutti e bentrovati su veie games con kingdom earth ok ok allora carichiamo la partita dell'ultima volta l'ultima volta eravamo arrivati allo scontro con si chiama cerbero vabbè noi ci proviamo io non so se ci avviciniamo ti fanno paura un cane a tre teste e quindi se non incontribbe stato un cane a tre teste ragazzo ho un paio di consigli per te attacchi attacchi facile dire c'è se qualcuno che non l'abbiamo da tre teste un po' però anzi ci staventia accetto più anzi anche gigantis più di quelli di quelli di quelli che si è certo ma perché non sapevo che il freddo così semplice non è difficile non è che fai tra i boss e gli amistaggisti che già non ha vita nanno sui un uccidio chiedere nel un uccidio luca buon bacchetto bello come on pastor pastor mi son di cominciare un bastoncino ah no! è la bacchetta bravo papirino la vero under E' dovuto trarre così ti riprendi la vita no soltanto per le questioni esatto no no aia aia ma devi la passione che c'è il po capo caperino capo capo guarda che non è che adesso staccare e poi c'è un certo pezzato c'è un certo pezzato e qui, sentiamo sempre 12 più bene ora si è ripreso eh si perchè loro si prendono oh non è bambini ti stai vincendo questa volta ah non si capisce niente ah non si capisce niente vai dentro ma si capisce niente che risponde e qui e qui si capisce niente anche se stai imbattando voi ne sapete delle segne e non delle scale che stai sono scale questo è un peggio dai io gioco alla fine con piccoli ma adesso è un peggio ok io gioco ora vinci sì per forza ora vinci per forza papà se sono me li venite a dare la magia oi 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 papà poi vinci si me l'abbiamo detto madò è stato duro bravo grazie quindi siamo diventati degli eroi basta adesso basta fascia fascia infernale quindi vi nomino ufficialmente cuccioli d'eroe e vi conferisco pertanto pieni diritti e privilegi per partecipare ai giochi quindi inoltre ehi come sarebbe cuccioli di eroe voi più verdi ancora non capite cosa ci vuole per essere un vero eroe e così e così sarebbe è una cosa che dovrete scoprire da soli come ho fatto io nessun problema mostreremo il nostro valore nei giochi non ci saranno i giochi per un po' prima devo insistemare i disordini dell'ultima battaglia ok d'accordo torneremo ciao ancora non ci credo quel ragazzo ha battuto Cerbero detto fra noi avevo già sfinito Cerbero quando il ragazzo è arrivato le mie labbra sono sigillate che cosa ha detto che già l'aveva stancato lui ah la Lessi quindi ce l'hanno fatta ce l'hanno fatta io andrei un attimo a salvare se ce lo fai fare Hercules Hercules o Hercules ma che è Hercules gli Hercules sono i nostri nemici giocati ero sbagliato ero sbagliato ero sbagliato ero sbagliato questo è Tilus di Final Fantasy 7 hai tutto bene? si come mai stavi dalla parte di quel tipo? cerco cerco qualcuno Adelio hanno messo aiuto ho tentato di usare il potere dell'oscurità ma al contrario mi sono piombato nell'oscurità e non trovavo più la luce la troverai la troverai anche io lo sto cercando la tua luce si non perderai non perderai non perderai mai di vista combattiamo ancora un giorno senza poteri oscuri mi dice che mi dice che va passi che lui no Sora ha preso l'abilità in croce sonico quindi che cosa è? adesso lo abbiamo questo è l'abilità allora io adesso ho destrezza e scanna per vedere i punti vita del nemico ah fai scanna che ci sarà eh no no ma già scanna ce l'abbiamo ah ce l'abbiamo già messo? si perché così ma io adesso si possono vedere tanta vita wow bella cosa aspettavo a sto momento finalmente anche il ciccione no poi non lo so in realtà penso di sì forse i mostri più pericolosi ok l'abilità ce l'abbiamo tutta ah eh sì facciamo anche l'equipaggiamento perché ci ne ha una cosa nuova che cosa è? fascia infernale annulla il tipo fuoco oscuro annulla annulla i poteri dell'oscurità cioè del fuoco dell'oscurità con la rimozione di costenimento gli api non sono sufficienti quindi ce l'abbiamo lo mettiamo a a pippo che cosa? il fascino la fascia infernale così gliela dai ma qua la puoi anche cambiare? si e la dai a quella più l'altra non c'è niente abbiamo fatto tutto assolutamente è forte e gentile sempre pronto quando serve è anche di bell'aspetto perfetto perfettamente infuriante mi fa impazzire un attimo tutti i pezzi sono al loro posto calma ecco cosa fare nei prossimi giochi mi occuperò io di entrambi come vuoi aiutare chi ti ha invitato alla festa? questo spettacolo è mio come vuoi combatti per quanto vuoi allora qua l'abbiamo fatto è inutile che ci torniamo perché dobbiamo aspettare vediamo un po' ma non vuoi ma non vuoi prendere il tesoro che ho detto io ma si può andare nel mondo i papirini e il pippo sono curioso no possiamo andare nella città di mazzo in tutta la città e nella giungla nella giungla perché nella giungla non abbiamo finito ma non 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 Sì, come presto a me, mi ha scelto. Sì. Sì, sono l'anima. Sì, sono l'anima. Sì. Sì, scopi. Sì, scopi. Sì. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 il record sai cos'è no? e quando fai una cosa molto bene giochi al salto di ana ma che gioca il salto di ana non c'è niente solo per un fiore non è bene non è bene Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.